La prima seduta del Consiglio regionale del Bar di Terra è stata una sorta di ricognizione di tutto il tempo perduto in questi mesi. La precarità dell'azione di governo sta tutta nel differimento al 30 aprile prossimo dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali per l'esercizio finanziario 2022. A sostenerlo i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Leggeri, Carlucci e Perrino per i quali il prossimo round di questa sfiancante lotta tra le fazioni di maggioranza dovrebbe tenersi sul rinnovo dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Intanto nei prossimi giorni dovrebbe iniziare la discussione sul bilancio ma il condizionale è d'obbligo in quanto il nervosismo è ancora evidente come dimostrano le reazioni scomposte di alcuni consiglieri durante la discussione in aula nell'ultima seduta. Prevediamo concludono acque agitatissime nei prossimi giorni ed altri cup di teatro ad altezza di quelli mostrati sino ad ora nella compagine di maggioranza. L'auspicio ovviamente è quello di essere seccamente smentiti dai fatti.